Crutch, bind, set. Benvenuti cari amici del canale Dampat Rugby. Disclaimer, ancora prima di iniziare il video, ovviamente quando aprite il video avete visto la copertina, quindi già sapete di che cosa parlo. Ma ve lo dico, se per caso non fosse state attenti, parlerò di nuovo per l'ennesima volta di Sergio Parisse e della sua esclusione dalla nazionale. Che barba, che noia, qualcuno di voi già si starà lamentando, basta, basta parlare di Parisse, basta, come ogni tanto si legge in giro. Beh, capisco benissimo che questa cosa possa essere venuta noia e proprio per questo faccio il disclaimer, ossia se non vi interessa, non ascoltatelo. Se non vi interessa questo video, è molto molto semplice. Una volta la tv si diceva cambiate canale, qui vi dico cambiate video, linkate su qualcos'altro, chiudetemi, eliminatemi. Se non vi interessa, passate al prossimo video, domani, dopodomani, tanto faccio video quasi tutti i giorni. Se invece vi interessa, se invece vi interessa, allora innanzitutto mettete un like di fiducia, così, like, Danilo, mi piacciono i tuoi contenuti. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, ma poi soprattutto restate qui, che prima vi spiego il perché ho sentito la necessità di fare questo video. O forse non la necessità, ma perché ho voluto fare questo video. E poi vi parlo, appunto, del caso specifico e proviamo a chiudere un po' il cerchio. Sì, più o meno, vediamo, forse. Allora, le ragioni per cui ho deciso di fare questo video sono molto semplici. Uno, mi piace parlare di rugby, ossia del gioco, dei suoi protagonisti, giocatori, arbitri, giocate, palla, campo. Ossia, tutto quello che accade dentro il rettangolo di gioco. Quindi, anche se può essere venuto a noia, trovo paradossalmente molto più divertente parlare di Paris e Kieran Crowley rispetto che parlare, che ne so, del sistema, delle accademie, per dire, argomento molto discusso e molto interessante. Però, che mi stimola meno la mia, la mia passione e la mia curiosità. Oppure, che ne so io, delle elezioni presidenziali, del consiglio di amministrazione, dei finanziamenti. Tutte cose importantissime, eh? Importantissime. Che però, quelle sì mi fanno una barba grande come una casa, invece mi piace parlare dei protagonisti. Due. Sono uscite due interviste. Sono uscite due interviste importantissimo, importantissime, importantissime. Uno di questi giorni vi farò anche un video sulla quantità di nuovi contenuti che stanno nascendo in italiano sul rugby, ma sono uscite due interviste che chiariscono le posizioni di entrambi. E non è scontato, non è una cosa che accade spesso nel mondo del rugby italiano, che su un dibattito così importante non ci sia la solita cortina di silenzio, ma invece le cose vengano messe in maniera trasparente sul piatto dalle parti. E quindi, insomma, ne parliamo perché è interessante, è veramente interessante. Due tasselli assolutamente fondamentali per completare il passo. Quali? Allora, Kieran Crowley ha parlato un'ora, un'ora, e ci sono tante cose interessanti. Tra l'altro, credo che farò un video proprio su tutta l'intervista che ha fatto Kieran Crowley, perché al di là del caso Paris, che occupa pochi minuti, ma, insomma, è un'ora di cose veramente, veramente interessanti, al podcast Fratelli d'Apostrofo Rugby. Lo trovate su Spotify o se andate nel canale YouTube di Otto trovate tutti i riferimenti. E l'altra, invece, alla rivista storica, no? All Rugby, che è uscito in formato digitale, quella di questo mese, e al, diciamo, al teaser che era uscito qualche settimana fa, si è aggiunta un'intervista invece completa e recente, perché parla dei fatti recenti, a Sergio Parisse, dove dà la sua versione dei fatti. E allora cosa dicono? Beh, fondamentalmente la versione dei fatti è la stessa, ossia entrambi con sfumature diverse, ma confermano il fatto, cioè come è avvenuto questo dialogo, questo incontro, no? Allora, Kieran Crowley, una settimana dopo la partita di Treviso con Tolone, si reca da Sergio per annunciarli di persona, anzi, forse addirittura dopo la finale, ecco, sulle tempistiche non lo so, ma sicuramente dopo Treviso con Tolone, perché Sergio parla di quella partita, si reca dall'ex capitano della nazionale per annunciarli di persona la decisione di non convocarlo, e questo lo sappiamo. Togliendo quindi a Parisse il sogno, no? Del sesto mondiale, e a noi il sogno di vederlo, giocare questo sesto mondiale. Parisse, allora, mentre Kieran Crowley fondamentalmente parla solamente di questo incontro, lo aveva già sottolineato in un'intervista a un rugby, e lo ribadisce a fratelli Dragby, mi viene Dragby perché l'hanno fatto con l'apposto, ma fratelli dirà, probabilmente per non confondersi con altre pagine già esistenti. Comunque, mentre appunto Kieran Crowley semplicemente conferma questo incontro, Parisse aggiunge qualche dettaglio, anche un po' polemico, si toglie qualche sassolino dalla scarpa, perché per esempio dice che un mese prima lui era stato convocato a Roma per una riunione con il presidente della federazione Marzio Innocenti e Kieran Crowley, il suo aereo aveva ritardato di un'ora e il coach non lo aveva aspettato e non gli aveva lasciato né un messaggio, né poi lo aveva ricontattato a breve termine, eccetera. Questa è la versione di Sergio. In più aggiunge Sergio che aveva trovato particolarmente strano il fatto che Kieran Crowley non fosse andato a Tolone in occasione della semifinale. Comunque una partita così importante dove giocava Treviso, che tra l'altro lui è allenato per molti anni, dove giocava, Parisse dice giustamente, due terzi della nazionale italiana e poi dove c'era appunto la possibilità di vedere Sergio a Parisse. Perché uno dice, sì ma la possono vedere in televisione? Sì, ma le partite viste dallo stadio sono differenti dalle partite viste in televisione. Ci sono tanti dettagli che si perdono, poi anche la possibilità eventualmente di scambiare due chiacchiere con i giocatori, capire come i giocatori si comportano anche lontano eventualmente dal pallone. Insomma, poi il mood, l'energia che proprio viene sprigionata da una partita. Le partite viste allo stadio sono diverse, sono diverse dalle partite viste in televisione. Però Kieran Crowley in quella partita non c'era, probabilmente non ci poteva andare, in periodo premondiale sono tante le cose di cui si deve occupare un commissario tecnico, però Parisse sottolinea questo fatto. Kieran Crowley, da lato suo, dice che invece non vuole entrare nel dettaglio di quello che si sono detti lui e Sergio. Tra l'altro Sergio racconta di come Kieran Crowley si è andato a trovare, si è andato a trovarlo e abbiano pranzato assieme un pranzo di tre ore. Quindi di cose se ne saranno dette in quelle tre ore. E alla fine di quelle tre ore, al momento del caffè, dice Paris, Crowley comunica la sua decisione finale. Chissà se quella decisione era stata presa in precedenza, o è stata presa anche rispetto a delle cose che si sono dette durante quel pranzo. Ecco, quelle sono proprio le classiche cose che non sapremo mai, ma è anche giusto non saperle, insomma, non è, probabilmente l'aveva presa in precedenza. Bene, ma proviamo a ragionare un po' su questa cosa, forse per l'ultima volta, perché al di là dei metodi e dei modi, che comunque sono importanti, che comunque sono importanti, restiamo un po' sulla motivazione, sulla motivazione dichiarata, no? La motivazione dichiarata è che, dando appunto il beneficio del dubbio che le cose siano realmente così, ma, insomma, restiamo su quella versione, Kieran Crowley garantisce che la motivazione sia squisitamente ed esclusivamente tecnica. Tecnica. Cioè, Paris non è nel gruppo allargato, attenzione, ricordiamocelo, non nel gruppo che giocherà il mondiale, non nei 23 che andranno in campo contro la Francia, contro gli All Blacks, Namibia e Uruguay, ma nel gruppo allargato, per una motivazione squisitamente ed esclusivamente tecnica. E allora, ovviamente, io mi ero inalberato quando era venuta fuori questa cosa, perché avevo detto, ho capito, ma chiedeteli quale, chiedeteli quale, e nessuno gliela aveva chiesto. Bravo Otto che gliela ha chiesto. Se vuoi suggerendogli un po' la risposta, Otto, eh? Perché gli hai fatto tutta una supercazzola prima di fargli la domanda, facendogli la domanda, dove gli suggerivi un po' la risposta. Però lui poi è stato comunque, è andato per la sua strada, è andato per la sua strada ed è stato molto trasparente e ci ha detto la vera motivazione. Quindi grazie a Otto che gli hai fatto la domanda, veramente grazie. Allora, entrambi fanno capire che si parla di non adattabilità di Sergio Parisse al piano di gioco. Punto. Lo spiegano in maniera diversa, però unendo le due spiegazioni si ha il quadro. Ossia, Parisse dice che Crowley gli ha detto che ha dei, non è presente come lui vorrebbe nel breakdown, quindi nella fase di recupero del pallone del breakdown, a fare il grillo talpa, per capirci. Nel placaggio, Parisse dice che gli viene detto che ogni tanto placa un po' troppo alto, il che io lo traduco che non è dominante nel placaggio, perché tra l'altro non è vero. Ossia, se si guardano le partite di Tolone si vede come Parisse quando è chiamato a placare, anzi, è più spesso, dipende dalle zone, però è più spesso portato a placare altezza ginocchia, soprattutto se sta scivolando verso l'esterno e se li vengono frontali allora si cerca di tenere su, ma come per esempio fa anche Ruzza, per dire, è proprio uno il suo stile e due probabilmente quello che gli viene chiesto anche a Tolone, io lo traduco più che non è dominante nel placaggio, cioè a differenza di Lorenzo Cannone, Alafì, ma anche Favretto, non è dominante, non è dominante nel placaggio, ha uno stile di placaggio più simile a quello di Federico Ruzza, per capirci. E poi viene detto che non ha capacità di ball carries, ecco, in quel caso lì secondo me più che sullo stretto quello che manca a Kieran Crowley è che Paris non può, o quantomeno, ecco, mentre nel placaggio e nel breakdown me lo immagino che si possa adattare questa terza cosa no, ossia Paris non farà mai il crash ball alla Lorenzo Cannone, cioè per esempio da un lancio di gioco e rimessa laterale non ce lo immaginiamo arrivare a 4.000 all'ora a prendere un break di potenza e velocità. Quindi diciamo che queste tre caratteristiche che Kieran Crowley vede nel suo numero 8 Paris non le ha. Ne ha tante altre, ne ha tantissime altre, ma non ha le tre che Kieran Crowley vede che deve avere il numero 8 della sua squadra e ne ha tutto il diritto di esigerlo, ecco, vista dalla prospettiva di Kieran Crowley. fin qui, non ci piove. Proviamo allora a vedere perché questa... Ah, aspettate, aspettate. No, anzi ci arriviamo. Proviamo però a vedere perché questa visione delle cose sembra perfettamente logica. Come ha detto Otto in live non fa una piega da parte di Kieran Crowley mentre sembri perfettamente illogica e anche qua senza fare una piega quasi al limite dell'incomprensibile da parte di Sergio Parisse e paradossalmente vista dalle loro prospettive entrambi hanno ragione. Entrambi hanno ragione. Bisogna solo provarla a vedere da un'altra prospettiva la nostra quella del tifoso. Allora vediamo la scelta di tagliare Parisse dalla visione dalla prospettiva dell'allenatore da quella del giocatore e da quella del tifoso. Allora da quella dell'allenatore anzi partiamo da quella di Crowley sì partiamo da quella di Crowley da quella dell'allenatore Crowley oltre a quello che abbiamo appena detto fa semplicemente capire perché uno dirà ma come ma va bene non ha queste cose qui ma ne può fare altre possiamo adattare il piano di gioco possiamo fare dei magheggi comunque Parisse apporterebbe tante tante altre cose che è anche inutile che vi vada a spiegare però Crowley fa un ragionamento secondo me corretto e me ne sono accorto oggi probabilmente da questo punto di vista ossia lui dice il problema è che a noi ci manca peso quindi non ci possiamo tra virgolette permettere un Parisse ossia lui dice non io eh lui dice avendo già degli avanti che sono imprescindibili come Fischetti e Federico Ruzza perché oggi ovviamente non possiamo sostituire né Fischetti né Ruzza con gente che pesi 30 kg più di loro relativamente leggeri relativamente leggeri non ci possiamo permettere anche una terza linea leggera ossia il nostro pacchetto di mischia verrebbe sovrastato e non avremmo le armi di cui abbiamo bisogno probabilmente né mischia chiusa ma soprattutto non nel gioco aperto lui dice il rugby di oggi è un rugby fisico si possono avere delle eccezioni di fatti l'Italia ce ne ha Ruzza Fischetti eccetera però non possiamo avere una prima leggera una seconda leggera e anche una terza leggera e ha ragione dal suo punto di vista ha ragione dal suo punto di vista per esempio fa il paragone con la Francia dice quando giocavamo contro la Francia noi abbiamo Fischetti dietro Fischetti Ruzza loro hanno Antonio davanti a Fischetti e dietro a Antonio Wilhelms insomma se in più ci mettiamo anche che dietro non abbiamo i ball carrier e abbiamo magari la genialata il calcettino il passaggio dietro la schiena però non abbiamo chi porta legna ci troviamo in difficoltà questo dal punto di vista di Crowley non fa una piega non fa una piega dal punto di vista di Paris Paris dice io sono più forte io sono un giocatore di rugby più forte anche dimenticandosi tutto il pregresso tutto il passato quello che ha dato quello che ha portato la riconoscenza tutto no io oggi dice Paris ha ragione e a parere mio ancora lo è ma non solo per quello che ha dimostrato per come ha finito la sua carriera Paris è ancora oggi uno dei migliori numero 8 del mondo considerandolo come giocatore di rugby a 360 gradi ossia capacità di presa di decisioni handling intelligenza rugbystica rimessa laterale leadership piede gioco aereo in tutte queste voci Paris è meglio di Lorenzo Cannone è meglio di Favretto è meglio di Alhafi Paris è a 360 gradi è un giocatore migliore di questi migliore io credo che Lorenzo Cannone per esempio abbia il potenziale per diventare un grandissimo giocatore ma oggi come oggi per me Paris è ancora meglio e allora Paris dice ma se io sono meglio se io sono ed è logico cioè se tu lo guardi dal punto di vista del giocatore se io sono un giocatore migliore com'è che non mi puoi portare nemmeno nel gruppo allargato e farmi provare fammi dimostrare che io posso fare quello che tu mi chiedi e non fa una piega quindi il ragionamento di Kieran Crowley non fa una piega il ragionamento di Paris non fa una piega proviamo a vederla dal punto di vista dell'appassionato dal nostro punto di vista dal nostro punto di vista che cosa guadagniamo a non avere Paris allora gioco e extra 80 minuti gioco molto semplice che cosa guadagniamo a non avere Paris un po' più di peso un po' più di peso in mischia più forza nel ball carrying possibilità di utilizzare il numero 8 nella maniera in cui già lo stiamo utilizzando tutte cose importanti che però se noi guardiamo su queste prossime partite io non credo che cambieranno di gran lunga il risultato del mondiale cioè comunque ci siamo capiti qualche partita qualcosa di diverso però magari anche con Paris ci sarebbe stato qualcosa anche di diverso dopo ne parliamo comunque che cosa guadagniamo? questo ossia quello che vuole Crowley un gioco più bilanciato una mischia più equilibrata più peso più incisività incisività nel gioco extra 80 minuti che cosa guadagniamo? ossia a livello di gruppo allora dimenticandoci tutte ste robe che sono tutte da dimostrare degli ego le personalità i cazzi i mazzi non entro nemmeno su questo extra 80 minuti guadagniamo anche perché poi mi sembra che non ci sia paura di inserire degli elementi nuovi all'interno del gruppo se no non avremo i vario Dogvu Dino Lamb eccetera eccetera che cosa guadagniamo? extra 80 minuti beh semplicemente un posto in più per un altro giocatore ossia un giocatore che non è Sergio Paris che giocherà a rugby anche dopo il mondiale avrà la possibilità di essere nel gruppo mondiale bene bene per lui e relativamente bene anche per noi in prospettiva futura quindi queste sono le cose che guadagniamo un pacchetto di mischia più incisivo più potente e un posto in più per un giocatore in più che continuerà a giocare anche dopo il mondiale che cosa perdiamo? beh allora perdiamo una delle più forti terzelline al mondo oggi oggi se volete dirmi che non è così ditemi che non è così però per me oggi Sergio Paris e lo ha dimostrato è ancora una delle più forti terzelline al mondo oggi e sono orgoglioso che sia italiano da questo punto di vista ossia orgoglioso sono felice sono felice per lui e credo che sia uno degli sportivi che abbia concluso la carriera meglio in assoluto di quelli che ci si possa immaginare alzando una coppa insomma si è tolto delle belle soddisfazioni poi parlo degli 80 minuti imprevedibilità decision making ecco nella stessa intervista Kieran Crowley parla di giocatori capaci di creare dal nulla giocatori che lui dice abbiano l'X Factor per esempio Capuozzo no? io ci aggiungo anche magari un Garbisi giocatori poi ad esempio in prospettiva futura è interessante che Kieran Crowley parla anche di Pash Relo come questo tipo di giocatori interessante vedremo comunque giocatori che dal nulla sono capaci di crearti qualcosa nomina anche Monti Ioane da questo punto di vista beh Paris è quel giocatore per eccellenza e basta vedere la semifinale io spero che almeno in tv l'abbia vista Kieran Crowley Paris è esattamente quel giocatore per eccellenza se c'è un giocatore che ha l'X Factor è Sergio Paris quindi cosa perdiamo? un grandissimo giocatore quindi il valore imprevedibilità decision making e perché no anche il fatto di avere un piano B perché si parla tanto del piano A di Kieran Crowley però magari 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 con Sergio Paris potresti avere un piano B ed extra 80 minuti che poi ovviamente si ritornano anche in campo queste cose che sto dicendo beh allora extra 80 minuti ha sempre in campo anche la leadership secondo me anche la leadership il togliere un po' di responsabilità magari a Lamaroc che soprattutto nell'ultimo 6 nazioni è andato abbastanza in ansia in alcune situazioni l'aiutarlo insomma tante cose dai è inutile che ve le dica le capite da soli extra 80 minuti beh una secondo me importantissima perdiamo noi tifosi la possibilità di celebrare nel migliore dei modi un grande anzi il più grande dei giocatori di rugby italiano e voi direte sì ma lui lo stesso Paris ha detto che non è quello che vuole sì sì è vero però io parlo della prospettiva dei tifosi e attenzione quando parlo di celebrare e questo è un tema che mi sta molto molto a cuore il riconoscere e il celebrare il merito di una persona alla fine della sua traiettoria è il più grande investimento nel futuro che si possa fare il rispettare e celebrare anche nella società normale per esempio ovvio non mi riferisco a Paris gli anziani per esempio è il più grande investimento che si possa fare perché per una semplice ragione che il ragazzo giovane che vede come viene trattato colui che ha dato tanto alla causa quindi in questo caso alla nazionale al rugby eccetera eccetera bene pensa se io faccio quella strada lì se io faccio quel percorso lì quando arriverò alla fine non verrò gettato via come uno straccio vecchio ma verrò rispettato e celebrato come mi merito quindi il trattare male una nostra stella tra virgolette o comunque un idolo del nostro sport Bielsa nell'ultima conferenza stampa dell'Uruguay ha detto gli idoli sono di proprietà della gente lui addirittura ha detto dei più poveri e quindi lui ha detto io mai gli chiedevano di Cavani e di Suarez dice mai farei qualcosa arreccherei un danno a un idolo perché non è mia proprietà è di proprietà della gente però perché proprio per questa ragione perché segnano uno standard quindi il fatto di aver chiuso in maniera diversa la traiettoria di Sergio Paris io credo che sarebbe stato un bellissimo segno un bellissimo segno proprio per il futuro non per l'oggi non per i ieri per il domani questa è la mia il mio punto di vista su questa cosa due cos'altro perdiamo extra 80 minuti beh perdiamo il challenge perdiamo la sfida che Paris avrebbe portato nel raduno Paris nella sua nell'intervista ha parlato di come per lui siano sempre stati ispirazioni la mentalità di Kobe Bryant la mentalità ecco le vedete gli occhi sbucare lì da dietro la mentalità di Michael Jordan ossia persone che hanno sempre provato a superare con l'etica del lavoro ogni giorno una sfida in più ogni giorno una sfida in più e lo è lo è sennò Paris non arrivava a 40 anni a giocare nella maniera in cui sta giocando quindi questo sicuramente sarebbe stato un esempio positivo per i ragazzi più più un challenge una sfida sei così forte superami superami sul campo superami in due mesi di ritiro magari ci riesci però intanto spingiamo spingiamo la sticella verso l'alto e da questo punto di vista mi viene in mente anche una storia che racconto l'ho già raccontata più di una volta Federico Buffa quando parlo di un altro grandissimo della palacanestro per esempio argentina di Manu Ginobili di come lui fosse il faro il punto di riferimento di quella generazione dorada che poi fece delle cose incredibili nella palacanestro ricordo per non farla troppo lunga che Buffa parla che arrivarono in ritiro c'era la palestra gelata e Ginobili si mette a fare i ciri di campo con un poncio con temperatura sotto zero ecco Paris sarebbe stato quel tipo di esempio secondo me soprattutto con una sfida per lui e una sfida per il gruppo peccato questa cosa la perdiamo e poi ovviamente il bagaglio di esperienza cioè tu metti in un gruppo giovane un giocatore che ha tanta tanta esperienza quel giocatore che tanti di loro lo guardavano giocare da ragazzino qualcuno ha avuto anche la fortuna di giocarci assieme insomma secondo me non allora Paris nelle sue dichiarazioni non pecca mai di umiltà ecco però è vero quello che dice cioè quando dice che i giocatori di Treviso si perdono qualcosa i giocatori nazionali si perdono qualcosa non averlo nel gruppo è vero è vero è indubbiamente vero è indubbiamente vero quindi ragazzi fate tutte le considerazioni del caso io avrei portato Sergio Paris lo sapete un rotondo sì un rotondo sì fatemi però dire che capisco la scelta di Kieran Crawley anzi come ho detto prima dal suo punto di vista la trovo quasi così ovvia non fa una piega come abbiamo detto poi abbiamo visto che forse guardando un po' più lontano qualche piega la fa però dal suo punto di vista che magari è neozelandese e lui pensa a fare il suo lavoro allenare bene questa squadra appunto e basta e va bene così non fa una piega poi guardando le cose in maniera un po' più diciamo rotonda e aperta qualche pieghetta la fa e quindi la capisco seppur non condividendola e attenzione chiariamo anche che io penso che Kieran Crawley con tutti i suoi pregi e tutti i suoi difetti che ha dimostrato sia in nazionale che a Treviso oggi sia una delle migliori opzioni che potremo avere a livello di coach della nazionale soprattutto considerando lo sviluppo dei giocatori allo sviluppo di giocatori giovani che magari poi in futuro con altri modelli di gioco con altre scelte differenti però intanto avranno imparato delle cose a livello di skill di manualità di decision making eccetera eccetera e poi comunque la proposta di gioco dell'Italia è una proposta interessante e divertente forse non la più efficace l'ho già detto tante volte ma sicuramente interessante e divertente e funzionale allo sviluppo dei nostri giocatori quindi detto questo non mi resta però che ricordare che Sergio Paris è stato probabilmente il più grande giocatore italiano di tutti i tempi ringraziarlo per una carriera pazzesca che ha fatto magari ci farò un video alla fine di questa telenovela che attenzione potrebbe non essere finita perché vedi mai che arriva c'è bisogno durante il ritiro che succede qualcosa magari poi è lui che dice no vedi mai che succedono altre cose eccetera eccetera però alla fine di tutta questa cosa sicuramente farò un video celebrativo non di questo momento ma della sua carriera e quindi grazie grazie Sergio per tutto quello che hai dato alla nazionale te lo ripeterò anche in futuro anzi ti ho scritto un paio di mail per invitarti a una live qui a fare una chiacchierata con la community e sei strabenvenuto il mio indirizzo mail ce l'hai se mai sentissi questo video e ti venisse voglia di venire a fare una chiacchierata qui magari anche tra un po' di tempo una volta che è passato un po' il come dire la logica incazzatura che un competitor e un campione come te in questo momento ha è logico è logico è così è logico però voglio anche fare ovviamente un grandissimo in bocca al lupo a Kieran Crowley ai ragazzi li seguiremo come sempre con tutta la passione del mondo e adesso andiamo verso il mondiale insomma quindi forza Fioi forza ragazzi a mille che c'è una una bella atmosfera che si respirava attorno alla maglia azzurra speriamo di respirarla anche in queste sfide di avvicinamento e poi ovviamente in mondiale sempre che questa storia quindi infinita non si arricchisca di nuovi capitoli dovremmo avere chiuso chiuso il cerchio dico sempre che non si arricchisca di nuovi capitoli perché non sono ancora uscite le convocazioni dell'Argentina non sono ancora uscite le convocazioni dell'Argentina vedi mai vedi mai non credo ma vedi mai ragazzi se avete voglia ditemi la vostra se non ne avete voglia ditemi che cosa ne pensate del video fischio finale un grande grandissimo bacio e ci vediamo domani con il prossimo video ciao ciao